Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Materassi Materasso Memory Aloe 200. Descrizione, Materasso Memory Foam Soft Toad con tessuto in aloe vera. Spessore esterno 18 cm benefici del Memory Foam, il materasso in memory si adatta perfettamente alla morfologia del corpo, sposando ergonomia e cane forte ed assicurando un sostegno equilibrato. Migliora la circolazione del sangue e riduce al minimo lo stress a carico di muscoli e nervi. Allevia il mal di schiena, i dolori a collo e alle articolazioni. Benefici dell'aloe vera. Il trattamento all'aloe permette al tessuto di rilasciare gradualmente i principi attivi caratteristici di questa pianta dalle proprie et benefiche caratteristici di questa pianta. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.